Non possiamo cominciare, si è scugito il vestito della brucia, ci vogliono almeno dieci minuti e adesso che facciamo, non si può far aspettare ancora, non c'è un altro numero e ci sono quei tre delle audizioni di oggi pomeriggio, sono ancora in costume, dio mio, non c'è nient'altro, ok, vada per quei tre, anche il cielo ce la mandi vuota. Signore e signori, in attesa dell'inizio dello spettacolo, vogliate però dire a regoletto di Giuseppe Verdi, la sublime aria, la donna in uova, eseguita dal frio Treccati. La donna immobile, qual piuma al vento, tuta d'accento. Sì, come la donna immobile, sia un'altra, la donna immobile, sia un'altra, la donna immobile, sia un'altra, la donna immobile. E sempre vise, sempre vise, sempre vise, sempre vise, che a lei si albita, chi le confida, manca un coltore. Ormai non sente sì, venice a piedi, chi su quel seno non gli fa amore. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero, è di pensiero. La donna è immovile, quando un momento muta dal centro, è di pensiero, è di pensiero. Grazie. Grazie. Grazie.